Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, quest'oggi restiamo sul capolago di provincia, Belluno, perché abbiamo invitato e ringraziamo per essere in termini dei nostri studi il Presidente del Consorzio Belluno Centro Storico. Andrea Dalponte, ciao Andrea, benvenuto nei nostri studi. Allora, relativamente fresca questa nomina, anzitutto inquadriamo il Consorzio Belluno Centro Storico, cosa fa nella sua mission e da chi è composto? I soci del Consorzio sono i negozi prevalentemente del Centro Città, abbiamo anche alcune attività esterne che hanno voluto associarsi anche di servizi. La nostra missione è quella di portare la gente nei negozi del Centro Storico ed è sempre più fatica, sinceramente, perché vuoi per fare degli eventi, uno fra tutti i giovedì sera che dopo ne parleremo magari, però tentiamo uso un termine proprio, tentiamo di riportare le famiglie in città, cosa che da dopo il Covid è cambiato l'abitudine della gente e quindi stiamo facendo fatica proprio a riportare questo. La missione, come dicevi, è questa. Ecco, nell'ambito turistico anche un collegamento in vista della stagione estiva, ovvero il turismo dei paesi di montagna, ma anche della Valbelluna e dei paesi limitrofi, come nel Feltrino, la visita al capoluogo di provincia ci sta, è tra virgolette una consuetudine per molti. Allora, un centro attrattivo, ricco di eventi, può richiamare anche i turisti, oltre che le famiglie del territorio. Mi sembra che abbiate una collaborazione anche con la DMO in questo senso, giusto? Sì, sicuramente la DMO è un partner importante per poter fare le attività. Si basa su progetti, su bandi e ogni anno possiamo, tra virgolette, attingere a qualcosa di questi bandi perché altrimenti non riusciremo a fare niente. Solo con le quote associative manteniamo la vita del consorzio ma senza poter fare niente. Quindi gli sponsor in primis ma anche la DMO, come i distretti di commercio con la Camera di commercio, sono cose, sono contributi importanti. La DMO so che sta puntando sulle famiglie e noi già ci avevamo pensato più o meno in sintonia. Abbiamo deciso che da quest'anno i giovedì sera partiranno prima, partiranno nella fascia anti-cena, diciamo così, dalle 6 alle 8, uno spettacolo di circa di un'ora, per famiglie e bambini. Dopodiché dopo le 9 ci saranno i consueti appuntamenti per i più giovani, non per i più giovani, insomma. Quindi allarghiamo la fascia di partecipazione di queste serate a tutto giovedì sera. Certo. Visto che ci siamo, Andrea, quando è che eravano inizio questi giovedì di sera? I giovedì sera cominceranno il primo sabato di luglio con il sabato di saldi. Adesso vado a memoria nel 6 o 7 di luglio. E poi ogni giovedì fino a ferragosto, quindi per 5 giovedì ci sarà i giovedì sera. Ferragosto è giovedì ma non si fa attività. Come consuetudine sappiamo che i bellunesi tendono alla scampagnata di giorno e ferragosto, quindi sarebbe uno sforzo inutile mettere risorse, come si diceva prima, proprio su una serata. L'anteprima di sabato come sabato di saldi ci saranno i sbandieratori di felte. Qua lo diciamo, intanto abbiamo qualche novità appunto per le famiglie. Ecco, quindi novità. Novità anche insieme al consorzio, la tua nomina ma anche un nuovo direttivo, quindi anche un ricambio per garantire magari anche nuove idee, nuovi stimoli. Certamente sì. Nella squadra sono entrate un bel po' di donne, devo dire anche, devo tenerle un po' a bada perché mi stanno facendo fare le corse. Ma è bello così perché c'è stimolo, c'è voglia di novità, di innovazione. Da tre mesi che ci siamo insediati come nuovo consiglio. Tante idee sono venute fuori, queste idee sono frutto di questi incontri, di queste persone, ma ne abbiamo ancora tante altre da pensare. Purtroppo il tempo è sempre che oggi penso una cosa, domani la faccio. I tempi sono biblici, ci vogliono sei mesi, un anno. Stiamo già organizzando cose per il prossimo anno perché quest'anno era troppo tardi per poterle fare. E la burocrazia alle volte non aiuta. Intanto la disponibilità degli attori, una mostra dei fiori, sembra una cosa semplice, non trovi nessuno e devi partire un anno prima per fare una cosa del genere. Quindi per dire ci siamo morsi, non stiamo copiando Feltre, Feltre l'ha fatta, noi abbiamo le nostre idee, però possiamo anche collaborare con Feltre. Abbiamo incontrato il direttore del consorzio di Feltre e gli ho detto, ma collaborazione, ecco che è nato subito gli sbandieratori. Certo. Portiamo gli sbandieratori anche a Belluno, quindi questa... Non rivalità, ma collaborazione. Ma no, no, questo campagnilismo che non porta nessun apparto. Certo, certo. Facciamo le cose insieme. Ecco, hai parlato prima di collaborazione con enti, Camera di Commercio, DMO, e gli enti dell'associazionismo di Belluno, perché ok, iniziative come il giovedì di sera che promuovete direttamente, ma la collaborazione e anche il coordinamento con le altre attività, mi viene in mente Proloco, piuttosto che associazioni culturali e sportive, è questa la strada che il consorzio intende intraprendere in futuro? Allora, il consorzio non è una Proloco, questo l'ho detto apertamente anche all'amministrazione con finalità diverse. Quando si diceva portiamo la gente in centro, portiamola in negozio specialmente. Quindi attività anche a sabato, che ormai sabato sta diventando un giorno fiacco per il commercio, perché la gente pensa ad andare a farsi un giro, di non frequentare più la città come una volta. E con le Proloco ci siamo trovati, ci siamo già trovati un mese fa, con le quali stiamo collaborando. Ci sarà il primo di settembre la festa del Proloco come abbiamo fatto l'anno scorso a Belluno, abbiamo dato il nostro supporto, il nostro aiuto e loro ci chiedono aiuto, teneteci i locali aperti, visto che facciamo sabato e domenica. Quindi, come dici, collaborazione c'è. Bisogna mettere insieme tante teste dopo alla fine, perché è già difficile fare le cose in due, se no ti metti in dieci, ma insomma la volontà in entrambe le parti c'è, quindi collaborazione. Assolutamente. C'è la problematica dello svuotamento dei piccoli centri, i borghi che scompaiono. Pare però che il centro di Belluno, ma non solo il centro di Belluno, anche in genere, i centri storici delle città abbiano molte vetrine chiuse. Una crisi è nel commercio che c'è, è evidente. Invertire la tendenza so che è una domanda difficile a cui risposta forse è altrettanto complessa. Noi ci mettiamo del nostro, cioè la professionalità. Questo è quello che paga davanti al cliente, davanti a chiunque, come dicevo prima, da dopo il Covid ci siamo abituati, dico ci siamo, ma io non sono noi quelli, a usare internet, a usare la consegna. Tra l'altro come negozi di alimentari noi lo facciamo già di abitudine, la consegna a domicilio quella funziona sempre, ma la consegna di qualsiasi bene, qualunque cosa uno voglia, se la fa mandare per posta, per Amazon, insomma facciamo pure pubblicità e colosso, che però non ti spiega come funziona il telefonino, se hai un problema dove vado, cioè vai in negozio che hai, chi ti dà assistenza prima e dopo la vendita di qualsiasi bene, le scalpe, il vestito, questo è quello che, il messaggio che vorremmo passasse nel confondire la clientela. Ci siamo sempre stati, ci siamo ancora, insomma, quindi, ma come dici, il valore sociale, perché a Belluno… Il rapporto umano anche con il negoziante, oltre all'acquisto, anche appunto il fare due chiacchiere, no? Ti consiglio, ti consiglio. Esatto, poi magari ci si lamenta quando magari non si va per lungo tempo e si vede una serranda abbassata, ah che peccato, ma insomma il commerciante… Dipende da te, perché quando mi dicono che non ci sono più negozi aperti, dipende da te che non sei venuto a Belluno, perché se tu venivi a Belluno mai quel negozio sarebbe rimasto aperto, perché questo gira un po', eh a Belluno non ci vengo perché non c'è niente, ma vieni a vedere cosa stiamo facendo, perché non c'è niente, non è vero, ecco che le manifestazioni, la famiglia, i giovani, manifestazioni anche di grande respiro, come l'ex tempo di scultura, che magari ne parleremo anche più avanti, che è andata in onda sicuramente tra fine ottobre, prima di novembre, quindi abbiamo, ci stiamo già muovendo anche su quella, la città, prima parlavi del turista, i turisti ce ne sono, ma il turista non è quello che viene in negozio, difficilmente, visita la città, il museo, i monumenti, a piacere di respirare questa città a misura d'uomo, perché quanti più sentiamo che lasciano le grandi città per venire a vivere a Belluno, in montagna, noi lo diamo per scontato, ma quando uno vive in realtà diversa, no, il turista, il negozio, qualcuno, no, uno su cento si ferma, altrimenti è la ristorazione, il bar, la pizzeria, sono quelli che hanno il contatto diretto con il turista, ecco questo, dai. Ecco l'ultima domanda, per i giovani, il mestiere commerciante in centro, ci sono ancora delle nicchie possibili, che sia sostenibile anche economicamente, in termini di investimento per un giovane che volesse fare il commerciante in un esercizio del centro, in questo caso di Belluno, Andrea. Secondo me sì, la passione, quello è il motivo principale che deve spingere una persona, non i soldi, perché se uno fa più i soldi magari dico, va, non facciamo il nome, va da qualche altra parte, ed è più tranquillo, ma per la passione, per metterci te stesso, quello sì, secondo me sì, e c'è ogni tanto qualcuno che si presta qualche idea innovativa, qualcosa che proponga alla gente di dire vado Belluno perché c'è qualcosa di esclusivo. Andrea, ti ringraziamo molto per queste utili informazioni che ci hai dato, allora auguriamo buon lavoro a te e a tutto lo staff del Consorzio Belluno Centro Storico e allora in attesa dei giovedì di sera, auguriamo un buon lavoro e una buona estate. Grazie infinite, grazie a voi. E a voi tutti, l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima per un altro numero di Dolomiti Turismo. Dolomiti Turismo